Ed eccola la firma fra i due vertici, Etra con il presidente Andrea Levorato e i Viacqua con l'omologo Angelo Guzzo per un nuovo importante centro studi che entro metà settembre diventerà operativo a tutti gli effetti con sede proprio a Carmignano di Brenta, un soggetto strategico per il monitoraggio e lo studio delle falde acquifere e dei sistemi idrogeologici di tutto il Veneto centrale. L'obiettivo è proprio quello di svolgere indagini negli acquiferi, monitorarli e saperli tenere in salute in modo tale che questa grande risorsa possa essere data alle generazioni future in buono stato. Il nuovo soggetto andrà a monitorare falde e acqua per un bacino di 1.150.000 abitanti. Responsabile del centro Rive Paolo Rondo e Lorenzo Altissimo, consulente di Viacqua, già direttore del centro idrico di Novoledo. Mettere insieme due gestori che hanno in comune gli obiettivi, garantire il servizio nelle famiglie e tutelare i cittadini nella qualità dell'acqua è una cosa naturale, poi preoccuparsi anche di ciò che sta sotto di noi e tutelare il patrimonio idrico che è una risorsa che non va sciupata, non va sprecata, non va inquinata. Nasce centro Rive proprio qui a Carmignano di Brenta, vanto l'orgoglio poter avere il massimo centro di ricerca sulla falda acquifera qui a Carmignano. Grazie.